Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 3 di Facciamo do schiacchere. Oggi si parla di un altro gioco per Windows 95. Con me c'è Andrea. Ciao Andrea. Salve a tutti. E il gioco di oggi, di questa puntata, è Age of Empires 2. Una pietra miliare, credo, per quanto riguarda gli strategici in tempo reale. Sì, assolutamente, assolutamente. Che ha dato origine a un lungo filone, credo. Sì, ma infatti, cioè al di là, dunque, come, non voglio ripetermi, ma come nella puntata con Diablo 2, Age of Empires 2, chiaramente in seguito di Age of Empires, chiamato anche The Age of Kings, il sottotitolo, The Age of Kings, giusto. Un gioco della Microsoft uscito nel 1999 e per Windows 95, se non ricordo male, 95-98, insomma. Comprato da me, praticamente, al lancio. Io non avevo giocato il primo, non so se tu avevi giocato il primo Age of Empires. Io avevo giocato il primo Age of Empires, sì. Non, non tanto, non tanto come il 2, ovviamente. Vecchia. Beh, sai, quando sei davvero, insomma, ero piccolo, ovviamente, quindi Age of Empires, sì, ero già equipaggiato con, al tempo, un Windows 95 sempre. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma sempre Windows 95 e anche Age of Empires 1. Non vorrei appunto sbagliarmi, ma Windows 95. Quindi ero già equipaggiato, me lo avevano appunto regalato. E sì, ho giocato Age of Empires 1, non tantissimo. La svolta fu Age of Empires 2. La svolta anche per un discorso di multigiocatore, perché Age of Empires 2 per me è stata la scoperta del LAN party. Con Age of Empires 2 per me è esploso il LAN party. Con amici, ritrovi vari ed eventuali. Quindi per me è stato il mio ricordo, che se devo pensare appunto ai giochi multigiocatore appunto, ritrovi con gli amici in LAN party, il primo gioco che mi viene in mente è Age of Empires 2. Quindi grafica leggermente migliorata, ricordo sempre grafica esometrica 2D, però confrontato appunto al suo predecessore, Age of Empires 2 aveva una bellezza molto 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 appetibile. Era una cosa che effettivamente ti balzava all'occhio, tutto era più uniforme rispetto al primo, l'intelligenza artificiale migliorata, quindi anche più gusto durante il gioco nei riguardi appunto, comparando quello che dopo erano i nemici pregenerati del computer. Sì. E quindi sì, sì sì, Age of Empires 2 rappresentò davvero una svolta in questo senso. Ecco, quindi tu hai avuto anche la differenza con Age of Empires 1, invece no, sono stato proprio sparato direttamente nel 2. Però per me il multiplayer è stato prima di Age of Empires 2, i LAN party li ho fatti con StarCraft, perché ho avuto prima StarCraft di quello. E mi ricordo anche una partita in tre, io e mio fratello e un nostro amico a Baldur's Gate, però vabbè quello era un multiplayer più lungo. I multiplayer, quelli veloci, sono stati StarCraft. Eh sì, quello non era da... Anche se la prima partita che ho fatto in LAN, anzi col collegamento seriale, è stata Diablo 1, ma questo è un altro discorso, insomma. Questo è un esperimento che hai fatto tu da giovane. Sì, sì, questo non è... No, ne parlerò in un altro... Ne parleremo. Ne parleremo più avanti, non esatto, in un'altra sede. Ma sì, io ho cominciato con Age of Empires 2 e non avevo, a differenza tua, non ho avuto ovviamente un confronto con l'1, ma è stato proprio amore a prima vista. Io l'ho inserito, l'ho installato. Non so come mai, ma l'immagine iniziale, la musica sotto e la cura che aveva, come l'hai detto prima, proprio il dettaglio, la grafica, le voci. Sì, io direi quasi molto accattivante. Assolutamente. Avvincente ed evocativo, perché alla fine stiamo parlando appunto del Medioevo. Ti catapulta direttamente, ti catapultava, insomma, direttamente. Che adesso possiamo sempre, voglio dire, fare sempre una piccola puntualizzazione sul fatto che adesso sei abituati sempre, no, alla grafica molto più realistica. Quindi ti coinvolge i sensi in un altro modo, quello che era appunto con grafica isometrica, 2D, sprite, eccetera. Però, nonostante questo, riusciva a darti quella sensazione e a coinvolgerti e a trasportarti in quell'ambientazione. Sì, perché aveva, a differenza di Starcraft, dove la progressione della tua partita si basava solamente, cioè riguardava solamente la quantità delle costruzioni e dell'esercito che avevi. Nei Jove Empire, 2, non so, ma anche nell'1, mi sembra, avevi questa idea di gameplay fantastica. Ti susseguivi nelle varie epoche storiche. Partivi dall'Alto Medioevo, ad arrivare l'età feudale, castelli e imperiale. Cambiava tutta la grafica e ti davano edifici in più. Cioè, quindi era molto complesso da questo punto di vista. Che, se non sbaglio, adesso corregimi se sbaglio, prima c'è stato anche Civilization. Giusto? Sì, sì, esatto, Civilization. E, se non sbaglio, comunque Age of Empires 2 aveva un attimino attinto ai concetti sviluppati e rappresentati anche in Civilization. Quindi si sono un po' dati, diciamo, rimbalzati un po' la palla in questo. Si sono ispirati. Però Civilization, a differenza di Age of Empires, non era riuscito a darmi quella voglia di dire no, aspetta che vado avanti e faccio un'altra partita, aspetta che lo voglio capire meglio sto gioco. Sì, è vero, è vero, è vero. Non lo so come mai, però per me è stato veramente una botta incredibile. E come tutti i giochi strategici che si rispettino, ma anche in generale, oltre alle classiche campagne che si fanno, che sono basate su personaggi storici, su eventi storici, c'è, penso che la maggior parte delle mie, delle partite che ho fatto Age of Empires siano nella missione singola, nel cosiddetto skirmish. Quindi scegli la mappa, scegli gli avversari e vai. Esatto, esatto, non so se anche tu... Assolutamente, assolutamente. Diciamo che, ma forse sai, è anche basato sul fatto che si aveva l'età che si aveva, quindi diciamo che gli eventi storici, che in ogni caso non è che siano così storici, anche in Age of Empires, diciamo che sono ispirati, sono una vaga ricostruzione. Esatto, sì, sì, sono solo ispirati a... C'è da dire che al tempo, no, quando hai una diversa età, di sicuro non badi molto queste cose, preferisci la schermaglia diretta, quindi entrare in partita, hai dei nemici da qualche parte e basta, sostanzialmente li finisce tutto. Chiaro, preciso, pulito, semplice. Infatti, ma il discorso che facevi queste campagne, che a volte erano appunto, sembrava tipo una ricostruzione di battaglie che ci sono realmente svolte e così via, ti dava quell'idea che, come dire, tu dici, ma in realtà non è proprio un vero gioco, sto quasi studiando la storia, no, vedi, ci devo fare questa facciata di gioco quasi educativo, quindi non ti sentivi in colpa, sai quando vedi tipo, non so, sedici anni, che dici, beh, ma non sto giocando proprio, cioè, anzi, sto imparando un po', no, perché vedi che c'è proprio la battaglia di Giovanna d'Arco, per esempio. Cosa che appunto era completamente diversa in Starcraft, quindi tu aprivi Starcraft e dicevi, vabbè, qua non posso farci niente. Esatto, mentre invece nei gioventari dici, eh no, vabbè, questo è storico, vero, attenzione, cioè, ma non è proprio il giochetto, vedi? Mamma, sto studiando. Sto studiando, esatto, sto studiando, eh, più o meno, poi ci sono, ci sono delle civiltà che sono veramente esistite, ci sono i Britanni, i Celti, i Franchi, i Goti, cioè i Bizantini, voglio dire, oh, ti sentivi, no, perché in realtà... No, è molto evocativo, esatto, secondo me è quello che davvero fa la differenza per me sempre rispetto ad altri titoli, insomma, di quegli anni. Poi avevi tutta questa... c'erano tredici civiltà, ognuna con la sua grafica, quindi... e con le voci anche... Le voci, come dimenticare le voci. Le voci erano... sì, hanno... e la musica. Guarda, dal punto di vista grafico, niente da dire, dal punto di vista audio, ancora meglio, secondo me. Sì, sì, sì. Perché sentire che tu andavi a selezionare quella civiltà, tal civiltà, e ogni personaggio che alla fine diceva una parola, due parole, ma nelle varie lingue... Cioè, come dimenticare il suono, ad esempio, della meraviglia. Ah, sì, 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 assolutamente sì. Voglio vedere qua, tra chi ha giocato Age of Empires 2, se non si ricorda il suono della meraviglia. O il suono della conversione. Che è diventato un meme famosissimo, vero? Tra l'altro, la cosa bella è che Age of Empires 2 non è una nostra idea solo mia e tua del fatto che sia veramente un gran gioco, ma è anche... questo viene anche sottolineato dal fatto che hanno fatto un sacco di espansioni, una versione HD e l'anno scorso la Definitive Edition. Sì, la Definitive Edition. Age of Empires 2, il 3 e Age of Mythology sono abbastanza caduti un po' nel dimenticatorio. Sì, un po' in disgrazia. Dopo 21 anni, eh sì, dopo 21 anni dall'uscita del 2, cioè, siamo ancora qua che... Sì, hanno deciso, e questa però Microsoft, secondo me, è una gran cosa, vuol dire proprio che hanno valutato che ci sono delle grandi potenzialità, quindi sì, 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 altrimenti, visto le manovre degli ultimi anni della Microsoft, non l'avrebbe mai fatto. Invece se l'ha fatto, appunto, è perché ci sono sicuramente buone, insomma, buone occasioni di mercato. Sì, perché la prima espansione, che è The Conquerors, se non sbaglio, ed era... aveva a che fare con il Sud America, grosso modo, perché parlavo di Conquistadores. Sì, esatto, esatto. Aveva delle civiltà e delle campagne, vero? Sì, 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 se non ricordo male, era proprio, sì, ispirato un po' al Sud America. Ma ai Aztechi... Esatto, esatto, e quella è uscita tipo l'anno dopo, due anni dopo, e poi abbiamo dovuto aspettare tipo una dozzina d'anni per avere le ultime espansioni, che sono del tipo 2015-2016, quindi è stato supportato ancora, fino appunto alla Definitive Edition, è uscita l'anno scorso, e grafica rifatta in 4K e tutto quanto. Sì, 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 ha fatto un gran lavoro. Sta proprio ad indicare che è un gioco quasi di punta. Assolutamente, assolutamente, sì. Poi, adesso, si può anche citare il fatto, no, che dovrebbe uscire anche Age of Empires 4, però lo diciamo sottovoce. Diciamolo, sì, diciamolo sottovoce. Age of Empires 4, che la cosa bella è che deve scont... Cioè, a parer mio, si scont... cioè, il più grande rivale di Age of Empires 4 sarà Age of Empires 2, è vero? Perché secondo me... Secondo me, sì. Tra l'altro, tu che magari sei un po' più addentro, gli strategici ne escono ancora fatti così bene? Eh, Civilization, con le ultime versioni, e Total War. Ah, giusto, bravo. È vero, è vero, è Total War. Eh, sì, sì, quasi sempre... Creative Assembly, Creative Assembly, che è sempre il brand di Total War, e continua in perterrita. E giustamente, insomma, sono bellissimi i titoli, secondo me, continua con la saga. Non me ne vengono in mente altri al momento, però sì, sicuramente Civilization e Total War se la battono sempre bene. Sì, credo che siano in effetti gli unici due, perché anche StarCraft 2, però al di là che è uscito dopo tanti anni di attesa, ed è uscito anche in tre capitoli separati, poi alla fine... È la Blizzard. È la Blizzard, sì. Ricordiamo che la Blizzard tutto può. Tutto può, esatto. Soprattutto decidere il tempo di sviluppo. Sì. Le deadline non esistono. No, 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 è un po'... è la Valve del... Certo, sì, sì, esatto. È la Valve per gli strategici o per gli hack and slash. Quindi, dopo aver fatto Age of Empires, l'espansione sono state The Conquerors, che seguono la parte sudamericana. E questo, diciamo, The Conquerors è l'unica espansione ufficiale del gioco originale, perché tutte le espansioni a seguire sono esclusivamente per l'HD Edition, che ovviamente è stata rifatta con una grafica solo leggermente migliorata, non è stato fatto un lavoro di re-rendering di tutto quanto, però supportata dai computer moderni, dai sistemi operativi moderni. Quindi, per l'HD Edition sono uscite altre tre espansioni. La prima è The Forgotten e questa aggiunge altre tre, quattro civiltà nuove e alcune campagne che spaziano da la storia di Dracula alla ricerca di Eldorado e così via. Tu queste le avevi giocate? Allora, le espansioni, a parte The Conqueror, le altre poi non le ho mai giocate. Devo essere sincero, anch'io non le ho mai giocate. So che esistono. Ok, ma... So che c'è una lista da qualche parte, ma no, no. Sì, sì, ma anch'io, anch'io le ho comprate, le ho installate, però... In realtà le sto usando solo per avere le civiltà nuove per le battaglie di giocatore singolo, vero? Perché poi alla fine... Giustamente, no? Giustamente, sì. Poi nel 2015 è uscito The African Kingdoms, che aggiunge ulteriori quattro civiltà e altre campagne, mappe, e poi l'ultima nel 2016 è Rise of the Rajas e sono ulteriori quattro civiltà. Quindi alla fine ne hanno aggiunte 18 più le 13 che già c'erano nel primo gioco e siamo a 31. 31 civiltà diverse, con... cioè 31 per tutto, vero? Quindi 31 di... Sì, diciamo che hanno coperto abbastanza bene, insomma, quello che... È vero un po' tutto quello che c'è stato sul pianeta Terra, insomma. Tu giustamente hai parlato delle meraviglie, allora facciamo un attimo un brevissimo... brevissima spiegazione del gameplay. Cioè, allora, in Age of Empires 2, al di là della campagna, che è la classica, parti, hai da fare queste missioni, che di solito è tipo costruisci quattro fattorie... no, scusa, costruisci quattro case, una... una... come si chiamano le barracks in italiano? Le caserme, sì, esattamente. Quindi la campagna è la classica, cioè tipo la prima missione è la classica, ok, costruisci quattro case, una caserma e tre soldati e hai vinto. Dopo si parte da... proteggi magari questo personaggio, vai a distruggere il tuo avversario e vabbè. Quindi nelle campagne, chiaramente, devi fare quello che ti dice gioco. Mentre invece, nella partita uno contro uno, tu ti ricordi cosa... quali sono le varie... le varie modalità, giusto o no? Le varie missioni... tu ti ricordi le varie modalità di gioco? No, io mi ricordo che le modalità di vittoria... Di vittoria, sì, 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 sì. Quindi c'è la modalità tempo, se non mi ricordo male. Esatto. Che assolutamente era quella, la prima che depennavo. Poi c'era la modalità mia preferita, che era quella quando il nemico... quando distruggi il nemico, sostanzialmente. Ok. Quando quindi... Sì, allora, la modalità base, che è... se non mi ricordo il nome preciso, però, tu... ci sono uno o più... cioè, diciamo, sei tu giocatore contro uno o più nemici, e un nemico si arrende quando, secondo il computer, è decisamente... ormai non riesce più a... Esatto, sì, 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 sì. A tenere botta. E la cosa bella è che lui ti dice... lui in realtà ti... lui chiede di arrendersi. Tu puoi dire no e radere lo suolo, vero? Esatto, esatto, radere lo suolo, esattamente, esattamente. E tu puoi dire no, mi dispiace, ma si va... Si va avanti fino alla fine. E questo... sì, sì, sì. Ricordo che questa era la modalità preferita di gioco, tra me e i miei amici. Sì, sì, sì. Le altre erano abbastanza snuppate. Sapevamo che c'erano da qualche parte. C'era un menù a tendine per selezionare. C'era un menù... ma non è mai stato toccato dal mouse quel menù a tendine. No, le altre... se n'era... in tutte le missioni, se tu riesci a costruire una meraviglia, e la meraviglia riesce a sopravvivere a tot tempo di gioco, comunque ce l'hai vinta. Sì, e puoi disattivare però l'opzione. Esattamente. Sono ricordo male. Esattamente, puoi disattivare l'opzione. E in più c'è un'altra modalità che si basa sulle reliquie. Tu puoi mandare... Sì, è vero. Andare i... vabbè, a seconda della civiltà mandi i monaci... Il chiarico di turno. Il chiarico di turno, esatto, a recuperare le reliquie che ti generano oro e se tu mantieni anche lì una reliquia oppure hai la superiorità sulle reliquie, mi pare, alla fine vinci. Ma sono sempre quelle cose che dopo spunti dal menu e dici no. Sì, sì, sì. È vero. Cos'era? Se possedevi tutte le reliquie? Sì, mi pare di sì. Mi pare di sì. Io mi ricordo proprio la meraviglia che dopo tot tempo di gioco vinci e le reliquie. Però per il mio modo di giocare no, perché sennò va a finire che ti barri chi tiri su risorse per arrivare alla reliquia. Cioè, è come... Un po' questo intervento divino, no? Le reliquie, la meraviglia e poi vinci. E poi vinci. Eh no. Cioè, roba che tu potresti aver solo... Vogliamo combattere o no? Eh, infatti, cioè, altrimenti tu ti fai otto cinte murarie con la meraviglia, ti attaccano con qualsiasi cosa e comunque vinci tu, no? Cioè, bisogna chiaramente andare a combattere. Sì, perché sennò diventa, come avevamo già discusso tempo fa per Magic, per esempio, cioè, voglio divertirmi. Cioè, voglio vincere ma divertendomi, non vincere dicendo mando solo a ricerca delle reliquie oppure tiro su risorse il più possibile per la meraviglia e poi mi limito a difendere. Perché... Esatto. Cioè, sennò non è bello, scusa. Assolutamente. Non è bello, no. Su questo siamo d'accordo. Ah, vedi? Perfetto. Così mi piace. L'unica roba che poi va a stonare sulla bellissima grafica medievale, l'età dei castelli, allora cominciano le case, invece di essere di legno, magari diventano di mattone e così via, è che, come tu ben ricordi, a un certo punto puoi chiamare una corvette sul campo di battaglia... Ah, Cobra Car. Cobra Car, che no, in realtà è una scelta di Cobra, però... È una scelta di Cobra, sì. Spiegalo tu dai, che... Beh, questo Cobra Car, ovviamente. Allora, vogliamo, insomma, fare un piccolo appunto sul fatto che gli sviluppatori, no, al tempo cercarono in tutti i modi di, anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, se non ricordo male, perché era proprio un punto di forza di quello che, insomma, cercavano di fare con lo sviluppo di giocontro. Cobra Car 2 era quello di non fare cheat all'interno del gioco, ovvero anche l'intelligenza artificiale del computer in realtà non usa particolari cheat per vincere con quell'interno. Certo, sono un secondo, differenza invece di, faccio l'esempio Starcraft, che lì il computer chiaramente bara, perché è, cioè, di poco si vede che se tu conti il tempo, è fisicamente impossibile che lui riesca a fare quello che fa in quel tempo, quindi chiaramente bara. In Age of Empires no. In Age of Empires no. Tra l'altro, una cosa, appunto, a differenza della prima, che se non ricordo male, nella prima era proprio evidente questo, perché tu a un certo punto, quando diventavi abbastanza bravo, ti eri impratitito abbastanza col gioco, vincevi. Sì, non è che c'erano, c'erano tante altre modalità, eccetera, alla fine ti scontravi contro il computer, avevi capito la strategia, insomma, e l'approccio corretto e vincevi. Ed era anche, dopo un po', risultava anche abbastanza semplice la cosa. Sì, è vero. E in Age of Empires 2, invece, questa cosa l'hanno migliorata tantissimo, hanno migliorato tantissimo la strategia messa in atto per l'intelligenza artificiale e senza, appunto, barare. Non è che a un certo punto, per il computer, il computer si fa spuntare in automatico milioni di risorse. Esatto. O in automatico unità varie ed eventuali sul campo. Gioca con le stesse regole del giocatore. Però, tornando alla copra carne, ma faccio, fammi fare un brevissimo appunto, che è la cosa che tanta gente si lamenta anche nei giochi odierni col fastidiosissimo e fammigeratissimo effetto elastico nei giochi di guida. Cioè, quando tu sorpassi il tuo avversario e sei chiaramente più veloce di lui, a un certo punto il tuo avversario va più veloce. Cioè, però non ha senso. Sì, ti recupera. Non ha senso, perché altrimenti, cioè, capisco la sfida. Te la puoi raccontare che sia la scia della tua auto, eccetera, ma in realtà non è così. Sai benissimo che è il computer che sta barando. Che sta chiaramente barando. Quindi, ecco, ci tenevo a fare sto appunto perché mi dà un po' fastidio. Comunque. In realtà, illusoria e fettizia anche sulle regole del mio sito. Esattamente. No, ricollegandosi alla copra carne, appunto, cosa c'entra tutto ciò con la copra carne? La copra carne era un sito di gioco per il giocatore, appunto. Quindi, nella lista molto lunga di sito che puoi usare. Esatto. Ci sono i classici, più risorse, costruisci più velocemente, le ricerche più velocemente, che vabbè. Fantastico. A un certo punto c'era anche l'unità con la car. E quindi tu potevi usare, potevi materializzare all'interno del tuo campo di gioco come unità militare. Esatto. Perché, di fatto, era un'unità militare che poteva attaccare e faceva, oltre ad essere velocissima... Beh, sì. ...faceva anche dei danni incalcolabili. Era una cosa incredibile. Già solo una bastava per davvero ribaltare la situazione di gioco. Se ne facevi come... perché, ovviamente, magari uno ricorreva ai cheat di gioco quando raggiungeva un po' l'esasperazione, no? E a quel punto non c'era neanche più molta remora, no? Uno cominciava a farne e non ti limitavi alla prima copra car. Non aveva fatto. Se ne trovavi 50, alla fine andavi in giro con 50 copra car che radevano davvero al suolo. Il computer non riusciva neanche a far spuntare fuori, no? Il pop-up con... Sì, sì, sì. Vuoi rimanere in partita? Vuoi arrenderti? Ormai la copra car aveva già raso al suolo tutto quello che era. Infatti, c'era questa specie di radù. Fatale. Esatto, sì, c'era questo raduno di Shelby Cobre nel medioevo e dicevano, eh, cos'è sta roba? Sì, perché poi se tu ricorre ai cheat, come giustamente hai detto prima, hai detto sei esasperato. Perché? Ok. Esatto. Quindi quando sei esasperato, c'è proprio giochi sporchissimo, quindi non ne prendo una, ne prendo duecento. Sì, diciamo che le tue inibizioni non esistono più. No, nel momento che... Non ci fai più problemi. Nel momento che dici, uso i cheat e ogni tuo freno... E proprio, proprio, cioè basta. Ogni tuo freno inibitorio viene spazzato via e sei in balia del potere infinito dei cheat. Quindi sei... Sì, sì, esatto. Tampi soluti. È il punto di non ritorno. Sì, esatto. Un po' come quando i matrimoni ti sbottoni la cinta, ti apri la cinta. Basta, sì, esatto. Fino a quel punto sei lì che dici, sì dai, mangio qualcosina in più, ma non vorrei... E dopo a un certo punto basta. Poi basta, non ce la fai più, non ce la fai più. Datemi tutto quello... Portate tutto quello che volete portare. Ormai ho già slanciato la cintura, ho sbottonato i pantaloni, cioè ho spazio, ho aumentato lo spazio. Perché... Basta, basta. Qua in poi non mi faccio più problemi, via. Ho un obiettivo, no? Ti poni e lo dici, basta. Cosa devo fare? Devo distruggere i nemici e basta, insomma, basta, via. Cento cobracar. Sì, perché quando ormai arrivi... E poi è che sia finita. Sì, perché quando non ce la fai più con le tue forze, cioè è proprio un fallimento. Allora, perché imbrogliare per poco? Se devo imbrogliare lo faccio seriamente, scusa. E quindi cento cobracar, perché che senso ha? Già che ho buttato tutto quanto un po' a ramingo e buonanotte, insomma. C'era una bellissima immagine che forse ti avevo girato su Telegram tanti anni fa. Questa illustrazione con i cavalieri dietro e guidati da una cobracar davanti, quello col braccio fuori dal finestrino. È bellissima. Esatto. Che ricordiamo, sempre se io per primo non ricordo male, che sparava proiettili aprendo le portiere. Mi sa di sì. Questa cosa, questa animazione geniale della macchina che aprendo le portiere e spara i proiettili. Meraviglioso. Sì, dava... Ecco, qui allora, però se tu usavi la cobracar e sparavi i proiettili con le portiere, va un po' a scemare il discorso ma questo è un gioco educativo storico. Perché dici, ma... Non avevi più neanche quella scusa per giocare, dovevi dire. Sì, sì. Quando arrivavi a quel punto... Alè, quanti saluti. Non c'era più molta logica. No, no, assolutamente. E poi Age of Empires è stato un fornitore di meme all'infinito perché vogliamo... Cioè, non è un gioco chiaramente perfetto perché anche lì hai i suoi problemi. Ricordiamo il fatto che su una barca puoi infilarci dieci elefanti ma non puoi metterci undici arcieri. È vero. Però, hai glielo... È vero. Ok, ok, tu prendi... Ti attaccano il castello a frecce e a bastonate. Questo prende fuoco. Ma dai, ci sta, vero? Cioè, si parla di 21 anni fa, insomma. Però sono stati fatti un sacco di meme e... Sì. Ci sta. Io non gliene faccio una colpa a questi piccoli problemi di design perché dai, non puoi... No, e se devo essere sincero non toglierei nemmeno nulla. Ma no, 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 ci sta. Ormai sono proprio entrati... È diventata una caratteristica, non è più un bug, no? No, ma infatti, cioè... Se lo togli vai a togliere una parte importante del gioco comunque perché è proprio l'anima... L'anima vera di Age of Empires sono anche queste cose qua. Cioè, io non vorrei... Sì, sono i lati positivi e anche i lati negativi, no? Lo prezzi nel suo completo. Esattamente. Nella sua completezza. Esattamente, esattamente. Merito anche forse un po' di affetto e nostalgia, ecco, possiamo dirlo. Sì, allora, ecco, io credo che se uno, magari abituato, a dei giochi strategici moderni, giocasse Age of Empires, probabilmente, non guardandoli con gli occhiali della nostalgia, direbbe, beh, ma insomma... E questi bug li vedrebbe in maniera peggiore rispetto a noi. Come proprio dei veri difetti del gioco. Mentre in realtà, no, cioè, è un po' più un marchio di fabbrica. Anzi, se l'avessero tolto nella Definitive Edition, non sarebbe stato quello. Basta, rivolta. No, non sarebbe stato quello. Basta, rivolta. Totale di Age of Empires, perché... Quello di Age of Empires. Sì, perché non ha... Mentre stavamo chiacchierando, non ha senso perdere tempo a descrivere ah, ci sono i fanti, ci sono gli arcieri, cioè, vabbè. Ma sì, perché... Allora, è un gioco che ha vent'anni. Quelli della nostra generazione, sebbene tu abbia qualche anno meno di me, però la generazione è quella, l'hanno giocato. Ammorbare chi ascolta dicendo allora i bizantini hanno questo, i britanni hanno questo, cioè, è lo stesso. Ci sono queste 13 civiltà, ognuna caratterizzata con determinati tipi di unità militari e determinato stile di costruzione, quindi non ha senso, secondo me, fare un elenco lunghissimo e inutile. Quindi ci tenevo un po' a raccontare le nostre esperienze, perché alla fine... Quindi, in chiusura, ricordo solo che nel 2001 è uscito Star Wars Galactic Battlegrounds, che è una skin, praticamente, di Age of Kings, cioè, ha lo stesso motore grafico, stesso motore di gioco, sì. Ha solo la parte, però, Star Wars, e quello è un altro gioco al cui ho giocato tantissimo, perché era Cavolo e Re, Giovempai, con Guerre Stellari, cioè, è proprio, è una fusione totale, è vero, delle cose che mi sono piaciute tantissimo. Non so se tu l'avevi giocato, c'è anche su Steam, tra l'altro. L'avevo giocato poco, l'avevo giocato, sì, però non tantissimo. Per me, sì, appunto, Age of Empire 2, l'ho continuato a giocare per tanti anni, proprio per quel gusto che c'era nel giocarlo assieme, nel giocarlo tutti assieme. Tra l'altro, se ti ricordi, uno, due anni fa, e forse anche tre anni fa, adesso che ci pensi, l'abbiamo giocato qua a casa mia, in rete locale, ti ricordi? E il gusto non cambia, e la bellezza non cambia. No, assolutamente no, perché, ovviamente, hai fino a otto giocatori multiplayer, o il single player contro il computer, quindi hai otto giocatori. E, anche se tutti e otto prendessimo la stessa civiltà, ci sono quei dettagli, tipo, ci sono otto colori diversi, otto colori diversi, e le civiltà sono uguali, però c'è, tipo, un piccolo dettaglio di colore blu, di colore rosso, di colore verde, nei vestiti, nelle case, nelle unità, che va, appunto, a identificare la squadra di appartenenza, pur mantenendo la stessa parte grafica. Mi ricordo, per esempio, che il cavaliere, anzi no, l'esploratore, che ha il cavallo bardato, è bianco, ma ha i freggi rossi, i freggi blu, o verdi, o viola, quindi io solo, cioè, proprio quando apro il gioco, vedo che ci sono tutte le mie righettine blu, i cappelli blu, le grondaie che hanno quella roba, di quel colore, che io subito sono già immerso nel gioco, vero? Eh sì. E poi, ovviamente, l'intelligenza artificiale di gioco fa in modo di differenziare il resto delle azioni, quindi tu stai effettivamente giocando con entità diverse, che ti attaccheranno in maniera diversa, si difenderanno in maniera diversa. E quindi, è vero, sì, magari sono le stesse civiltà, però il resto è tutto diverso. Con un'anima proprio, con uno stile di gioco proprio, esatto. E una cosa interessante, a differenza di Starcraft, che anche nella partita singola contro il computer è molto frenetico, perché gli devi fare un sacco di azioni, altrimenti il computer già bara, e in più è più veloce di te. In Age of Empires 2, io l'ho sempre visto molto più tranquillo. Cioè, allora, non dico che poi fai due click e poi ti fai gli affari tuoi, però non hai una checklist di cose da fare in maniera rapidissima. Cioè, tu puoi prenderti un po' più di tempo per pensare alle tue cose. Sì, esatto. Anch'io l'ho sempre giocato così. Si può, ovviamente, giocare alla modalità Starcraft, nel senso che poi, se non erro, farti tutte le tue macro e andare alla velocità della luce, ovviamente, avere una sequenza di operazioni per cui comunque tu arrivi nel minor tempo possibile ad avere una potenza di attacco e una difesa superiore ad un asario. Assolutamente. In maniera da chiudere la partita nel minore tempo possibile. Però non è... si può giocare, ovviamente, in tanti modi diversi, tra cui anche il fatto di prendersela con calma e attuare strategie diverse. Quindi non per forza avere subito l'esercito più forte, ma magari concentrarsi più sulla difesa ed espandere le tue strutture tra cinta muraria e anche i vari edifici, le varie unità di edifici in maniera diversa all'interno della mappa per chiudere magari area di accesso, per limitare o aumentare la raccolta delle risorse, perché magari da una parte c'è una foresta, dall'altra c'è il mare, eccetera, e quindi si riesce a gestire in qualche modo meglio i diversi aspetti appunto della strategia. E quindi per me è molto più piacevole. Starcraft appunto è talmente concitato che spesso perdi questo gusto nel pianificare, nel poter pianificare, perché per pianificare essendo appunto un'attività devi pensarci, devi attuare un metodo e devi avere anche il tempo per farlo. Mentre se hai una sequenza di macro prestabilite per arrivare a fare sempre comunque all'incirca lo stesso risultato, questo c'è meno, questa attività di ragionamento c'è sicuramente meno. Anche per poter sperimentare magari, no? In maniera diversa modalità diverse di vittoria, no? Esatto. C'è un'attività di più sul raccogliere un determinato tipo di risorse, su fare un determinato tipo di difesa, su fare un determinato tipo di esercito con diverse caratteristiche magari e quindi puoi sperimentare liberamente tipologie diverse di strategie. Sì. Io tra l'altro sempre facciamo allora continuiamo un po' questo paragone con Starcraft. se non ricordo male le ultime partite che ho fatto a Starcraft 1 erano andavano tutte a finire così cioè il computer fa due attacchi abbastanza ravvicinati e veloci utilizzando i suoi cheat quindi tu all'inizio devi lavorare tantissimo per riuscire a a mettere su risorse difesa perché appunto ci sono questi due attacchi all'inizio che fa il computer dopo di che il computer due bei rush esatto poi il computer ti lascia stare non ti attacca più e si fa un esercito infinito quindi io me ne sono accorto se tu riesci a resistere proprio i primi due attacchi che ti fa circa dopo lì ti lascia stare e arriva asfaltandoti completamente mentre invece e in una partita di Age of Empires che ho fatto qualche giorno fa appunto per prepararmi un attimo alla registrazione mi sono accorto che il computer è molto casuale nelle azioni che fa cioè delle volte arriva con l'esploratore a cavallo e fa un giro a volte magari arriva già con qualche milizia per esempio e dà un colpettino delle volte magari fa brevi attacchi di fila a volte ti fa un attacco grosso poi aspetta un attimo ti lascia stare poi ti riattacca ancora cioè comincia una partita e a differenza di Starcraft dove dici porca misera adesso devo concentrarmi essere velocissimo è quasi stressante vero cioè è un lavoro praticamente in Age of Empires tu non sai mai cosa ti fa il computer tu cominci fai i tuoi lavori ma non sai se io adesso sto parlando dopo il scontato che si faccia una mappa senza fiumi ma se poi addirittura c'è anche il mare lì è veramente proprio da che parte mi attacca di qua di là esatto puoi decidere come farti dove farti i porti come spostare trasportare le tue unità da una parte all'altra come attaccare su più punti su più fronti oppure da un punto unico sì io trovo che trovo che sia sia possibile appunto giocare con questo approccio più rilassato che permette appunto di una riflessione maggiore è costante durante la partita quindi non sono costretto appunto a continuamente ciclare i comandi e inserire i comandi per andare velocissimo perché appunto arrivano i rush del nemico o del computer che tendenzialmente mi asfaltano giustamente tutte le varie unità che faticosamente col sudore abbiamo pronto ho costruito ma in qualche modo posso appunto attuare una strategia pensare a una strategia riflettere un attimino sul terreno e su quello che ho a disposizione attuare pensare a una strategia attuarla e divertirmi nel gestire i vari attacchi o le manovre che il nemico che il nemico propone o comunque che attua sì a me piace molto questo questo approccio assolutamente sì mi sono dimenticato ci siamo dimenticati anche di dire che nel in tutte le meccaniche di gioco c'è anche la diplomazia non so se ti ricordi ma tu puoi decidere come porti con l'avversario allora se sei uno contro uno ok non c'è storia ma se tu giochi anche contro esatto contro contro quattro sì contro quattro giocatori cioè giochi tu e tre e tre players diciamo comandati dal computer tu puoi proporre di allearti con uno o due di loro sì 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 oppure poi porti chiaramente di guarda tu per me sei ostile e te lo dico da subito sì è vero e lui e lui sì cioè invece di perché normalmente tu parti che sei neutro quindi ognuno si fa la sua roba ma se tu vai praticamente a dichiarare guerra da subito il nemico ti prende già di mira quindi dici ok lui quell'altro magari lo lascio stare ma lui è proprio il mio nemico sì e quindi è un altro approccio ancora diverso oppure mi era capitato che ci fosse un giocatore del computer che mi avesse chiesto di allearmi con lui sì per far fronte comune con un altro quindi altro aspetto molto interessante eh sì all'interno della dinamica di gioco sì perché all'inizio è ognuno per sé ma io posso subito cominciare a dire no io ce l'ho direttamente con te l'avversario a sua volta cioè quindi andati in rapporto di di conflitto e appena potrà verrà subito ad adaccarti e magari lascerà stare gli altri giocatori e anche qui cambia totalmente cambiano totalmente le possibilità strategiche eh sì ovviamente se non sono più da solo e mi posso alleare con altri due che hanno un territorio e risorse diverse all'interno dei propri spazi ovviamente mi aprono tantissime possibilità mi apre tantissime possibilità questa cosa è molto interessante sì le alleanze gli schieramenti in generale sono fantastici infatti e puoi deciderli sia alla creazione della partita nel caso dei giocatori di due giocatori umani che durante la partita se si fanno due giocatori umani contro magari due giocatori computer c'è anche la possibilità volendo di tipo giochiamo io e te contro il computer io e te ci alleiamo e si possono condividere le risorse per cui anche qui vado ad aggiungere un altro punto di strategia perché posso dire guarda io mi occupo di tirarti sulle risorse e tu costruisci e fai l'esercito esatto quindi io vado nelle retrovie e mi metto a fare la fattoria mi faccio fare gnameria la miniera per estrarre la pietra l'oro e tu invece sai che tu non devi preoccuparti delle risorse e magari puoi piazzare gli avamposti cominci a fare le mura pensi alla strategia di battaglia quindi diventa aggiungere un ulteriore livello di profondità si permette davvero di divertirsi nel pensare assieme appunto nel caso del multigiocatore nel pensare assieme alle strategie di vittoria è molto divertente ecco come intrattenimento è riuscitissimo secondo me si ti dà appunto varie possibilità puoi giocare un po' più tranquillamente se invece vuoi giocare aggressivo ti dà la possibilità di giocare in maniera più frenetica su questo su questo bellissimo no mi ricorderò sempre visto che partiamo anche di aneddoti a questo punto e beh soprattutto soprattutto di aneddoti soprattutto aneddoti allora ricordo che una una famigerata notte tanti anni fa beh partimmo la sera eravamo in eravamo in tre eravamo in tre quella sera un lamparty si decise per un lamparty classico i giochi erano diversi e svariati iniziamo circa verso le otto di sera insomma la cosa sfuggì molto di mano alle quattro della mattina era anche ora di di smetterla soprattutto quando la stanchezza fisica e mentale inizia a farsi sentire pesantemente quando gli occhi stilacrimano che rendi conto sì che questi occhi iniettati di sangue che fanno invidia a un vampiro di seconda generazione non ti danno tre è il momento è il momento giustamente però eravamo tutti molto presi da questo da questo lamparty e allora ci fu l'idea all'unanimità ragazzi va bene finiamola così Age of Empires 2 ultima partita alle quattro di mattina come come non chiudere in maniera più perfetta una sessione così epica è la chiusura il finale migliore in assoluto allora Age of Empires 2 ovviamente tutti stanchi morti e si decise per un qualcosa di rapido appunto quindi ragazzi le strategie azzeriamo le strategie V che è il migliore nel tempo minore tutti contro tutti subito via olla e in effetti credo che quella partita lì sia durata una cosa come mezz'ora 40 minuti insomma è stata abbastanza lampo che insomma volendo in Age of Empires 2 si può andare avanti tranquillamente delle ore sì senza nessun problema quella volta lì fu appunto un approccio diverso scelto l'unità sempre molto divertente in ogni caso però insomma diciamo che è un gioco versatile adattabile a tutti i vari tipi svariati tipi di umori e di casistiche è vero è vero te la puoi giocare come vuoi se hai poco tempo se hai tanto tempo se vuoi giocare più aggressivo più difensivo cioè mille mille sfaccettature diverse alla fine per soddisfare per un gioco assolutamente si adatta alle tue esigenze e ti soddisfa in ogni caso beh sì ed è secondo me anche cioè tutto questo va a portare supporto appunto al fatto che vent'anni dopo è ancora cioè escono ancora cose nuove per i giovanpire 2 io credo che a memoria mia non ci sono tantissimi giochi che dopo quindici vent'anni vengono ancora giocati vengono riediti vengono sì ce ne sono pochi diciamo che si possono contare credo sulle dita della mano non sono tantissimi i filoni o comunque le saghe appunto c'è Total War che continuano a andare avanti però si sta parlando comunque di episodi diversi qui stiamo parlando comunque di voglio dire possiamo parlare ecco visto che siamo maggio 2020 e c'è plena stata l'uscita di Final Fantasy 7 remake possiamo citare possiamo citare la Square Enix e dire che insomma Final Fantasy ha lasciato un po' un segno in tutta la generazione credo degli anni 80-90 diciamo che Age of Empire 2 è il Final Fantasy 7 degli strategici in tempo reale dai è vero è vero ecco ha la stesso secondo me lo stesso impatto la stessa iconicità di Final Fantasy 7 Age of Empire 2 si potrebbe fare un paragone del genere sì secondo me sì perché è vero che Total War va avanti ma non è che hanno fatto Age of Empire 9 cioè è sempre il 2 vero? è sempre il 2 esatto è una riedizione migliorata come è appunto Final Fantasy 7 adesso oddio si può ma quello l'hanno più rimaneggiato l'hanno rimaneggiato l'hanno rimaneggiato vero non si può di certo negarlo non è esattamente la stessa meccanica di quell'orecchio però si tratta comunque della stessa storia della stessa ambientazione degli stessi personaggi quindi vuol dire che comunque il pubblico si è affezionato molto si è affezionato tantissimo e e ci tiene ancora molto per cui hanno deciso alla fine di investire nel progetto e di portarlo a compimento tanto quanto appunto Age of Empires 2 nella versione appunto nuova è stato un gran lavoro in ogni caso perché non stanno più usando il era il Genie credo Genie Engine vero? quello di Age of Empires 2 sai che non mi ricordo credo che si chiamasse Genie Genie Engine che era lo stesso motore di Age of Empires Age of Empires 2 e di quello che hai citato tu poc'anzi di Star Wars Genie Engine esatto quindi sai non usi più lo stesso motore devi sostanzialmente rifare tutto quindi hanno davvero fatto un gran lavoro ci hanno investito però c'è da dire che il titolo appunto ha ancora un grosso seguito per cui ne vale la pena o comunque hanno sicuro hanno valutato hanno fatto le debite valutazioni e hanno valutato che effettivamente ne vale la pena guarda si diciamo che sono andati sono caduti sul morbidissimo sono caduti il paracaduto era abbastanza ampio ampio e l'altezza di caduta era molto molto bassa sono lanciati a paracadute già aperto da 20 metri no no è davvero è davvero fenomenale veramente un gran gioco per tutti i gusti fruibile in tutti i modi possibili perché con questa versione ultima ecco non è fruibile per macOS se uno ha quindi non la versione non l'hanno fatta no non l'hanno fatta la versione per macOS della Definitive Edition non esiste purtroppo gli utenti Apple devono accontentarsi dell'HD e questa secondo me è una cosa si è una cosa un po' strana perché veramente non gli sarebbe costato credo niente una volta che fai tutti gli asset chissà chissà è uscito è uscito solo per solo per Microsoft Windows distribuito solamente su Steam quindi neanche GOG o altre cose ah capito si suona un po' come esclusiva però ma si odio un gioco Microsoft Studios però ripeto Age of King c'era per macOS secondo me è un po' strana sta scelta di non farlo per di farlo esclusivo a Windows comunque si credo che abbiamo sviscerato tutto quello che c'era da dire sul personale perché tu che dici hai qualche altro aneddoto su questo no nessun altro aneddoto particolare diciamo che essendo un luoco molto molto avvincente appunto il rischio è quello di andare avanti effettivamente per diverse ore o comunque di fare più partite finché il tempo lo concede ma anche solo per vedere aspetta che vedo la grafica di questa nuova civiltà e ricominci dopo una volta che parti è finita e poi basta si 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 ti irretisce tremendamente si non puoi fare una volta che cominci come raccogli il primo pezzo di legno la prima pietra dopo basta vai vai bene la puntata termina qui io ringrazio Andrea per avermi tenuto compagnia grazie a te in questo racconto di Age of Empire 2 grazie per aver ascoltato la puntata e un ciao a tutti grazie a te grazie a te